Erba attagliata ai bordi della strada, manto stradale e sistemato. A dieci giorni della chiusura e dell'ondara di maltempo, questa mattina, sarà disposta la riapertura della strada provinciale 14, caricata sul territorio comunale d'introdacqua. La chiusura si era resa necessaria dopo il cedimento del manto stradale dovuto ai continui smottamenti per il maltempo. Questa mattina l'amministrazione comunale, insieme ai dipendenti della provincia, avrà avvenuto al taglio dell'erba ai bordi della strada e la sistemazione del manto stradale, ma non finisce qui. È stata riaperta la strada e nel tratto interessato dal cedimento della banchina ha senso unico alternato, però senza l'ausilio del semaforo, in quanto non è necessario. Successivamente l'amministrazione, come sta già facendo da giorni, ha contattato i uffici competenti della provincia e sappiamo con certezza che sono state impegnate la somma per il ripristino immediato. Ci preme dire che il dirigente qualche giorno fa ha firmato pure la determina per il ripristino degli asfalti nelle strade provinciali nel comune d'Indrodac. L'accesso al paese in questi dieci giorni è stato garantito dalla percorribilità della strada provinciale 15. 15. Grazie.